TAPSTEP AAAAAAAA Country Rock L'America è il meglio che abbiamo Viva Trump, viva gli incendi, viva i deserti, viva gli sconciuti SCRIMO VOGLIA MORIERE Progressive Rock Wow, questa cosa è super difficile, super melodica, ma stra piacevole Technical Death Metal Wow, questa cosa è super difficile, mi sto facendo saltare in ogni cervello, è meglio così! Hardcore Punk Fonculo la società! Grindcore Fonculo la società! Christian Metal No, questo non lo accetto Ambient Altresi detto non so suonare un cazzo, quindi ripiego su questo Deathcore Quando lo scopri la tua reazione è più o meno questa Ma dopo un tot di anni ti ritrovi così Depressive Black Metal Allora ragazzi, non ci siamo capiti, io voglio morire tantissimo Solo che non ho le palle di ammazzarmi Mudcore Non ci capisco un cazzo! Rock, anni 70-80 Vi prego, andate avanti Basta! Avantgarde e Progressive Metal Tipico fan di questi generi essere tipo No, 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 la musica che ascolti tu è troppo semplice e banalotta Fai come me, non ci capisci un cazzo tu di musica Ascolta questa cosa bellissima per farlo sapere agli altri come faccio io! Skabank Free Jets Non ho davvero idea di cosa cazzo sto ascoltando, ma mi piace un sacco I Tool, dopo un decennio, anni e anni di attesa Tornano con un singolo che è anche la title track dell'album E sta deludendo la metà dei fan Però almeno sono su Spotify dai ragazzi Quindi va bene così Ciao ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto Io vi saluto, ci vediamo ad un prossimo video E vi ricordo di iscrivervi, condividere, mettere mi piace Tutte quelle stronzate lì e di cercare qui nella descrizione Il mio profilo Instagram per rimanere aggiornati sulle solite stronzate che Mi succedono nella vita ogni giorno Detto questo quindi, ciao ragazzi! In tutto questo c'è Caterina giù che studia Giusto perché voi lo sappiate Mi ha appena scritto Tutto ok, vero?